Benvenuti in questa lezione. Oggi andiamo a fare un approfondimento teorico per quanto riguarda la messa a fuoco, che è probabilmente il primo punto a cui prestare attenzione quando si realizzano foto o video. E' questo che sia dallo smartphone oppure da una fotocamera professionale. Facciamo una piccola riflessione prendendo come esempio proprio il nostro occhio. Tutti i giorni noi mettiamo a fuoco oggetti che la vita ci mette di fronte, e quindi tutto ciò che ci circonda. Portando un classico esempio, quello della matita davanti agli occhi, infatti posizionate una matita davanti ai vostri occhi e provate a seguire quello che vi sto per dire, se appunto la posizioniamo davanti noi e ci concentriamo su di essa, avremo tutto lo sfondo sfocato, quindi fuori fuoco. Al contrario invece, se ci concentriamo sullo sfondo, perderemo il focus sulla matita, che sarà adesso sfocata. Ora che c'è chiaro questo piccolo e semplice concetto, cerchiamo di applicarlo anche ai nostri supporti digitali, che devono per forza di cose riuscire a riprodurre in maniera nitida ciò che noi stiamo inquadrando, in modo da poterci restituire un'immagine fedele e nitida. Quando si realizzano video, è importante far sì che tutta la scena sia riprodotta in maniera fedele, pulita e nitida, cercando di conservare quanti più dettagli possibili. Insomma, la prima regola è che quello che inquadriamo si veda, e lo strumento a nostra disposizione per farlo è appunto il fuoco. Poi, sul vedersi bene, ci lavoriamo con calma, però almeno che si veda. Quindi, affinché questo accada, le immagini devono essere sempre bene a fuoco. Per mettere a fuoco abbiamo diverse opzioni che la nostra videocamera o dispositivo con cui decidiamo di realizzare le riprese ci mettono a disposizione. Abbiamo l'autofocus, che permette di lasciare questo compito alla tecnologia del dispositivo. Di tipologie di fuoco automatico ne esistono diverse. Facciamone una breve panoramica per poter capire meglio quando è meglio usarne una invece che un'altra. E se possiamo affidarci totalmente a questo strumento. Cosa che vi spoilerò già adesso? No. Ma capiamo con calma perché. Quindi adesso vi faccio un rapido elenco delle modalità di fuoco che possiamo trovare sulla nostra camera e quando si possono utilizzare. AF, a rivelamento di fase, utilizza sensori nella fotocamera per rilevare la distanza tra l'obiettivo e il soggetto, regolando la messa a fuoco per mantenere nitida l'immagine. Attenzione perché questa tipologia di messa a fuoco dà priorità alla distanza del soggetto dal sensore. Ok? Quindi se ad esempio avete un naso importante come il mio e utilizzate l'autofocus, è probabile che metta a fuoco il sensore la punta del naso, realizzando un primo piano rispetto agli occhi, che insomma in una scena come questa sono la parte più importante da avere a fuoco. Quindi ecco, questo tipo di modalità non la consiglio per riprendere persone, a meno che non ci sia la possibilità di attivare una funzione chiamata priorità volto o priorità occhio. Ma bensì può essere più utilizzata per riprendere degli oggetti o comunque dei panorami o delle scene con più elementi in campo o anche sì con delle persone, ma magari non dei primi piani. Poi abbiamo l'autofocus AF, a rilevamento di contrasto. Questo utilizza un algoritmo per rilevare la differenza di contrasto tra diverse aree dell'immagine e regolare la messa a fuoco per ottenere una maggiore nitidezza, come sempre. In questo caso il metodo di messa a fuoco è più efficace, la tecnologia è più moderna, sempre che le condizioni di illuminazione siano ottimali. E su questo c'è da fare una precisazione. Per la tecnologia di autofocus, per quanto la vostra camera sia la più moderna esistente sul mercato, l'autofocus con il buio funziona generalmente di M, M di male, funziona male. Poi abbiamo le tecnologie ad autofocus ibrido, quindi AF ibrido, che combinano entrambe le tecnologie di cui abbiamo parlato prima, quindi utilizzando la messa a fuoco a rilevamento di fase, per una rapida messa a fuoco iniziale, e la messa a fuoco a rilevamento di contrasto per andare a mettere a fuoco in maniera più precisa. Ovviamente sempre tra le modalità di autofocus automatico abbiamo la possibilità di avere quella selezione del punto, che consente quindi a noi utenti di selezionare manualmente il punto di messa a fuoco. Per esempio se avete una videocamera, fotocamera con touchscreen, con il vostro schermetto touchscreen, toccando semplicemente sullo schermo avrete la possibilità di decidere dove mettere a fuoco. In caso contrario, con il joystick, con insomma i comandi che avete sulla camera, potrete proprio decidere il punto di messa a fuoco. Quanti punti ci sono tra cui scegliere nella vostra telecamera, questa appunto è una questione specifica della camera che utilizzate. Infatti esistono camere con diverse quantità di punti di messa a fuoco e questo si riflette in una messa a fuoco più precisa. E poi abbiamo la modalità forse più interessante per noi videomaker, dopo tutta questa sfilza di tecnologie, no? abbiamo quella che ci permette di realizzare delle immagini tenendo il fuoco, anche cambiando la distanza dal soggetto e la camera, che è la AF-C solitamente, che sta per autofocus continuo. Questa tecnologia ci permette di appunto mantenere la messa a fuoco sul soggetto anche quando è in movimento, regolando continuamente la messa a fuoco e quindi non è una volta mette a fuoco in automatico e poi siamo fermi, no? Tipo in questa situazione mettiamo a fuoco una volta, autofocus automatico mi ha messo a fuoco poi a posto. Ma se la scena fosse con me che mi allontano o mi avvicino alla camera, l'autofocus continuo è la soluzione ottimale. E in questo caso ancora più che negli altri, una combinazione delle diverse tecnologie esistenti sul mercato permette il funzionamento ottimale di questa modalità. Più è avanzata la tecnologia utilizzata, meno sfarfallì o perdite di fuoco avremo durante la registrazione dei nostri filmati. Perché attenzione, quando farete una ripresa con l'autofocus potrete incorrere in alcune aberrazioni, ovvero alcuni errori, problemi che rovineranno la vostra immagine. Come ad esempio un tremore nello sfondo. Vi farò vedere delle immagini in sovraimpressione. Dovute al fatto che il sensore cerca di ricaricare, di ricercare continuamente un nuovo punto di messa a fuoco. Vediamo quindi rapidamente, dato che abbiamo parlato di tecnologia, alcune tecnologie di oggi usate da alcuni brand per avere un'idea più generale di cosa possiamo trovare sul mercato e a che punto tecnologico siamo. Ad esempio abbiamo la famosissima tecnologia Dual Pixel di Canon che utilizza un sensore a doppio pixel che lavora in tandem, ok, insieme, per rilevare la distanza tra l'obiettivo e il soggetto regolando la messa a fuoco in modo preciso e rapido. Un'altra tecnologia, infatti forse il brand con l'autofocus migliore sul mercato a parer mio per quello che ho provato al momento è Sony che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale per prevedere il movimento del soggetto e mantenere la messa a fuoco continuamente in maniera nitida. Quindi per ora anche per esperienza personale vi posso dire che Canon e Sony al 2023 iniziato da poco sono le camere con le tecnologie di messa a fuoco automatica migliori sul mercato. Se hanno queste tecnologie che abbiamo citato poi ovvio ci possono essere camere di fascia inferiore che non utilizzano la tecnologia di punta di Canon o Sony o quello che è. Ultimamente questa è una tecnologia molto recente Panasonic ha sviluppato la Dual IS che combina l'immagine della stabilizzazione ottica e quella digitale per ottenere una messa a fuoco nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa non ho ancora avuto modo di provarla però ho visto tutti quelli che stanno utilizzando le ultimissime Panasonic sono molto soddisfatti anche perché da possessori di Panasonic non di ultimissima generazione magari di gioia del 2000 camera del 2018 2019 l'autofocus non era proprio il punto di forza. Ok? Quindi insomma anche sul tipo di brand che scegliamo dobbiamo fare diverse considerazioni perché possiamo avere un vantaggio per una cosa o per un'altra magari per la stabilizzazione magari per la messa a fuoco magari per la tenuta dell'iso e in tutte queste scelte dobbiamo decidere a chi affidarci come brand sia secondo me provando prima le strumentazioni sia anche cercando di capire che tipo di videomaker e che tipo di produzioni andremo a fare nel tempo noi come come produzione di video di tipologia di video siamo evoluti tanto nel tempo infatti abbiamo sia Sony che Panasonic che Canon che Blackmagic e abbiamo provato più o meno tutto perché? Perché ci sono delle situazioni in cui una tecnologia è più utile di altre e le nostre necessità nel tempo sono cambiate non dovete avere tutte le camere come noi perché abbiamo anche Nicole perché non serve non è una cosa logica provatele e cercate di capire cosa è più utile a quello su cui state lavorando maggiormente o che pensate che sarà il vostro comunque focus a livello di business di vendita di lavorazione comunque tolto questa parentesi gigante parlavamo delle tecnologie dei punti di autofocus e come abbiamo detto ognuna di queste tecnologie ha dei punti di forza e di debolezza e quindi la scelta dipende tanto dalle esigenze specifiche di ripresa che avrete come abbiamo detto poc'anzi quindi ad esempio se si desidera effettuare riprese con mano libera in condizioni di scarsa illuminazione su carta la tecnologia di Panasonic potrebbe essere la scelta migliore e in generale la tecnologia di messa a fuoco automatica hanno un impatto significativo sul risultato finale delle riprese e la scelta della tecnologia più adatta appunto è importante per ottenere i risultati desiderati ma quindi sta benedetta messa a fuoco automatica è così importante e indispensabile la prima scelta che dobbiamo tenere in considerazione vi parlo della mia esperienza io personalmente la uso molto raramente in quanto per la realizzazione di contenuti più studiati ok più scritti come spot pubblicitari o video narrativi in cui seguiremo uno script la gestione del fuoco diventa un elemento narrativo e creativo in più e averlo sotto controllo ci permette di raggiungere esattamente il risultato che cerchiamo se invece siamo in situazioni più di report la messa a fuoco automatica può essere uno strumento efficace per non rischiare di perdere il fuoco di un soggetto che non sappiamo che movimenti possa fare a una partita di basket non è che possiamo prevedere cosa il giocatore farà nel campo dove si muoverà a meno che non siamo dei geni o tipo west siamo le dita più veloci a mettere a fuoco dell'universo anche perché insomma generalmente un algoritmo ad un pc un computer reagiscono istantaneamente per quanto noi bravi no mai anche se avremo le dita più veloci del west ok non saremo mai veloci come un pc per rispondere alla domanda di prima quindi è importante dipende da cosa dovete fare il mio consiglio è di imparare ad usare il fuoco manuale in quante più situazioni possibili così da avere una competenza basilare in più e poter usare diversi strumenti che il mercato offre vi capiterà di cambiare obiettivi camere affittarne di tutti i tipi e modelli quindi insomma se sapete mettere a fuoco con le vostre manine ok è meglio durante questo corso vi darò alcuni consigli pratici su come mettere a fuoco manualmente che strumenti potrete utilizzare per facilitarvi e quando può essere comodo o furbo usare la messa a fuoco automatica parlando invece di messa a fuoco manuale andiamo a descrivere più nel dettaglio come funziona la messa a fuoco di una videocamera per poter gestire il fuoco avremo a disposizione una ghiera e già in questo caso ne esistono di due tipi ghiera degli obiettivi fotografici e ghiera di obiettivi cine o video quelle fotografiche hanno generalmente un'escursione più breve e quindi è più difficile fare modifiche molto precise sono studiate generalmente per funzionare con l'autofocus gli obiettivi video o cine hanno ghiera dentellate che permettono l'utilizzo di un follow focus ovvero uno strumento apposito per manovrare del fuoco che può essere wireless o meccanico ma approfondiremo questo dispositivo più avanti se state pensando di acquistare un obiettivo vi consiglio comunque di rimanere su una versione fotografica così da avere la possibilità di utilizzare l'autofocus o le stabilizzazioni o altri automatismi o strumenti elettronici che sugli obiettivi video non sono presenti piuttosto passiamo agli obiettivi video quando siamo sicuri di voler fare solo video non anche foto e quando abbiamo raggiunto un'abilità e una coscienza profonda di quello di cui abbiamo bisogno in maniera non so più generica quella fotografica può essere più versatile ecco la ghiera dunque tornando al discorso della ghiera che sia video o foto generalmente indica dei parametri sono indicati dei numeri dei parametri che fanno riferimento alla distanza in cui l'immagine sarà a fuoco quindi quando mettiamo a fuoco un soggetto a cosa dobbiamo fare attenzione in primis alla distanza che il soggetto ha dal nostro sensore osservando le nostre lenti potremmo vedere che ci sono indicate appunto delle distanze minime da mantenere infatti in base alla tipologia di lente sarà possibile mettere a fuoco solo da una determinata distanza in poi riprendendo l'esempio che abbiamo fatto prima della matita provate ad appoggiarla sul vostro naso oppure a metterla immediatamente davanti al vostro occhio non sarete in grado di mettere a fuoco questa benedetta matita perché è troppo vicino a voi ecco questa distanza è determinata dalla tipologia di lente e generalmente indicata appunto sulla ghiera quindi per toglierci ogni dubbio vediamo il primo numerino della messa a fuoco cosa dice a quanto deve essere distante il soggetto e capiremo perché magari se siamo troppo vicini non riusciamo a metterlo a fuoco invece non vi è mai una distanza massima di messa a fuoco infatti sempre sulle nostre lenti generalmente ci sarà anche un simbolo dell'infinito appunto che indicherà la posizione in cui la ghiera dovrà essere posizionata per mettere a fuoco l'infinito ovvero l'orizzonte anche in questo caso la distanza in cui tutto sarà fuoco ok dipenderà dal tipo di lente facciamo un esempio una lente grandangolare avrà un punto di infinito molto più vicino e infatti si tenderà facilmente ad avere un tipo di immagine tutta a fuoco mentre una lente tele ad esempio un 80 mm avrà un punto di infinito più distante in termini di metri dal nostro sensore e questo inevitabilmente comporterà di avere più facilmente un soggetto isolato ed una profondità di campo minore questo elemento della profondità di campo oltre che dal millimetraggio della nostra lente è influenzato anche dall'apertura del nostro diaframma come abbiamo visto in precedenza nelle lezioni dei fondamentali vedete che è un po' tutto come in un puzzle tutto piano piano si interseca e si collega e prende più logica abbiamo visto che già molte informazioni che possono tornarci utili a poter mettere a fuoco un soggetto le troviamo scritte direttamente sopra le nostre lenti ma quindi per mettere a fuoco un soggetto vi sto dicendo di mettervi là con un metro e misurare la distanza del soggetto assolutamente no anche se nel cinema fa ridere ma si faceva proprio così assurdo vero ma abbiamo per fortuna degli strumenti che ci vengono messe a disposizione da madre natura i primi due sono i nostri occhi se li abbiamo entrambi e la nostra logica possiamo usare le indicazioni della ghiera per capire in che direzione il fuoco sarà più vicino a noi o più distante innanzitutto quindi se andando verso sinistra o verso destra e questo purtroppo ahimè dipende anche dal brand alcune lenti se vai verso sinistra vai verso l'infinito in altre se vai verso sinistra vai più vicino al sensore la logica di tutto questo qual è? rendere tutto complicato però insomma è indicato sulla ghiera quindi questo innanzitutto se abbiamo un soggetto alla distanza di un metro e vediamo che dietro di lui è a fuoco e lui è sfocato allora ci basterà vedere da che parte girare la ghiera poi possiamo anche approssimare la distanza cioè dire il soggetto è più o meno a due metri so che la mia ghiera a due metri va posizionata lì e teoricamente sarò più vicino alla messa a fuoco ma comunque gli strumenti magici sono sempre gli occhi per verificare che il soggetto sia nitido e quindi a fuoco in questo caso avere un monitor esterno dato che quelli delle nostre videocamere le fotocamere generalmente sono minuscoli può aiutare oppure una funzione molto utile può essere quella del magnify ovvero poter ingrandire l'immagine direttamente dal monitor zoomando per poter vedere in maniera più efficace se effettivamente muovendo la ghiera qual è la parte il momento ok la posizione della ghiera dove il dettaglio della scena è più nitido ma quindi tutto qui ci affidiamo alla vista e basta beh sì sicuramente è lo strumento più affidabile affiancato alla logica come dicevamo prima ma per fortuna siamo nell'era moderna la tecnologia ci viene in aiuto con un strumento molto utile ovvero il focus peaking adesso faccio una premessa non è detto che tutte le camere lo abbiano è generalmente una feature che tutti i monitor esterni ci garantiscono tutti adesso se prendete un monitor esterno e non c'è il focus peaking cioè non è colpa mia nel senso generalmente lo hanno ecco comunque lo vedete poi nelle descrizioni tecniche nelle schede tecniche che cos'è quindi sto focus peaking il focus peaking va ad evidenziare tramite delle aree colorate quali sono le porzioni di immagine che in quel momento sono a fuoco ed è uno strumento che personalmente ho sempre attivo e vi consiglio di fare lo stesso perché ok affidiamoci a quello che vediamo ma se lo vediamo evidenziato è più facile no? ok direi che abbiamo fatto una bella panoramica e adesso dovreste avere più chiaro il funzionamento del fuoco e dovreste essere in grado di mettere a fuoco il vostro soggetto se non siamo a cavalletto come in questa situazione ed il nostro soggetto non è immobile vedremo che ogni volta che la camera o il soggetto si muoveranno il tutto andrà fuori fuoco quindi come si fa quando il soggetto e la camera si muovono? qui non c'è una regola vera e propria con la pratica diventerete più bravi a seguire il fuoco è quasi come se la lente diventasse un prolungamento del vostro corpo quindi quello che vi posso dire è di fare quanta più pratica potete proprio per diventare più reattivi ed efficaci ci sono però delle cose che possiamo fare per facilitarci il lavoro ed in base al tipo di situazione ovviamente sono più o meno applicabili innanzitutto la cosa più difficile da fare è tenere il fuoco quando sia la camera che il soggetto si muovono entrambi magari in modo non continuo quindi ad esempio quando il soggetto si avvicina e si allontana dalla camera è quando la camera fa la stessa cosa ovvero si avvicina e si allontana dal soggetto ecco questa è la condizione più difficile di tutte quindi cosa possiamo fare beh se dovete fare una ripresa come quella avete due opzioni attivare l'autofocus no soluzione facile se avete un buon autofocus oppure coordinare la scena facendo delle prove magari appunto segnandovi i diversi punti di fuoco e poi sicuramente la pratica cioè nel momento in cui voi starete veramente un tutt'uno con la vostra camera la reazione sarà quasi istantanea ecco l'unico modo per non ciccare il fuoco però anche in questo caso è la coordinazione con il soggetto ecco che dunque il consiglio che posso darvi per facilitare questo aspetto del mantenere il fuoco quando le cose sono in movimento è coordinate le scene soprattutto quando potete cioè non farlo è assurdo se potete farlo no per esempio se dovete riprendere la camminata di qualcuno parlate con questo soggetto chiedeteli di mantenere la stessa distanza e sincronizzatevi esistono milioni di trucchetti per fare questo in maniera più ogevole ma la verità è che la vostra comunicazione come abbiamo detto prima è fondamentale per facilitarvi la messa a fuoco durante le riprese in movimento potete seguire queste semplici regole cercate di limitare i movimenti di camera e di soggetto in simultanea quando è solo una cosa muoversi è tutto più facile mantenete la stessa distanza dal soggetto per esempio durante le camminate così da avere il fuoco quanto più fisso possibile e dover intervenire meno sulla vostra ghiera se potete provate le scene così da sapere già dove dovrete modificare il fuoco e come evitando di improvvisare vedremo ancora l'argomento della messa a fuoco nella lezione dedicata ai movimenti di camera con il gimbal e alla lezione inerente alle riprese a mano libera però se hai dei dubbi inerente all'argomento trattato in questa lezione scrivi qua sotto così da aprire un dialogo anche tra voi studenti e dobbiamo aiutarci tutti a migliorare cioè non c'è niente da fare più ci aiutiamo a vicenda più miglioriamo in fretta se invece ti tutto chiaro tutto perfetto prendi la tua fotocamera o videocamera ed esercitati con il fuoco inizia subito perché la pratica in questo caso è l'unica cosa che può fare davvero la differenza quindi vai prendi la tua fotocamera e diventa il più veloce del west a mettere a fuoco allena con le dita e appena sei pronto ci vediamo alla prossima lezione grazie a tutti